La pressione atmosferica sul nord Italia tende a calare, correnti occidentali umide e instabili portano molte nubi sul Vicentino e qualche breve precipitazione, vari impulsi perturbati impattano sugli Alpi, alcuni di questi riusciranno ad entrare anche sulla pianura padana. Venerdì sulla nostra provincia, giornata per lo più grigia, parziali schiarite nel primo pomeriggio, da sera una rapida perturbazione porterà fenomeni sparsi, soprattutto in pianura, in montagna difficilmente si vedranno piogge o nevicate. Per quanto riguarda sabato, giornata molto variabile, lungo la fascia prealpina ci sarà un po' di instabilità pomeridiana, locali rovesci, pioccate oltre 1700 metri, verso sera ampie schiarite fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica inizialmente cielo irregolarmente nuvoloso, momenti soleggiati in pianura. Nella seconda parte della giornata il cielo si farà via via più nuvoloso con formazione di rovesci lungo i rilievi, punte di 5-10 mm di pioggia sulle prealpi. Per l'inizio della prossima settimana non si vedono ulteriori precipitazioni. Il clima sarà fresco, tipico dell'inizio della primavera, temperature massime in pianura al di sotto dei 20 gradi. Un aumento dell'instabilità, correnti più fredde potrebbe arrivare da metà settimana.